Ora veniamo a parlare di un libro, di un libro edito da Arte Stampa Modena e veniamo a parlare anche del suo autore naturalmente Francesco Sala che è un medico di famiglia. Due le passioni di Francesco Sala, lo sport e i grandi artisti del passato, ricostruito in un libro La vita e l'arte di Francesco Stinga, ma è uscito in ordine di tempo il suo ultimo romanzo, Un giallo, il ladro di miracoli. Allora noi sentiamo l'autore e la descrizione del protagonista, ovvero il commissario Eleuterio Dallari. La storia vera che mi ha ispirato per questo racconto è la sparizione, il furto di un quadro, un quadro molto importante, un quadro miracoloso, diciamo così che si diceva essere un quadro miracoloso, a cui i modenesi erano stati da secoli molto devoti perché era il quadro della Madonna del Murazzo che dalla fine, praticamente dalla metà del 1600, era naturalmente ospitato nella chiesa di San Cataldomo e questo quadro fu effettivamente rubato in una notte di gennaio del 1930 e io costruisco su questa cosa un'idea che io mi sono fatto su come andarono effettivamente le cose e che ho cercato appunto di raccontare agli altri. Perché non regime fascista? Certo, sì ho voluto raccontare anche un po' così quello che era il clima dell'epoca attraverso, diciamo così anche, e poi io sono andato a documentarmi prima di scrivere, ho voluto, mi sono letto un po' tutti i giornali dell'epoca, tutto quello che era un po' quello che succedeva in città perché serve molto, qui a Modena abbiamo la fortuna di avere conservato praticamente tutto, c'è una grossa cultura della conservazione della memoria, abbiamo degli archivi straordinari e quindi basta solo allungare una mano e si trova quello che uno vuole, si vuole documentarsi su un periodo e siccome mi piace fare le cose fatte bene ho costruito anche questi che sono dei racconti studiati, raccontati da me e ho voluto ancorarli a uno sfondo reale che è quello della mia città insomma. Poi i personaggi, gli ambienti, i luoghi, tutto in chiave modenese, insomma a me quel commissario di polizia se avesse la pipa, se fumasse la pipa mi piacerebbe che fosse, che assomigliasse a Megre un po', è un soggetto un po' particolare. Beh insomma è inutile dire che io mi sono ispirato effettivamente a Simenon, io sono un grande estimatore di questo scrittore francese insomma e di questo personaggio, è chiaro che il mio non è Megre ovviamente però potremmo dire che è così un Megre modenese per certi versi insomma perché credo che abbia questa particolarità insomma un po' anche per quanto riguarda le sue abitudini di vita, il fatto di frequentare osterie, bere l'ambrusco, mangiare le nostre specialità che credo che non siano solo un fatto alimentare ma siano chiaramente un fatto di cultura anche questa così, questa abitudine a frequentare posti in cui si potevano giocare a carte, fumare, bere l'ambrusco, allora ormai quasi, ormai decisamente, ma infatti sono, è praticamente la modena tra le due guerre questa ecco che io raccomando. Ecco allora c'è questo personaggio che è il commissario, c'è padre Berardo, ci sono altri personaggi e poi ci scappa anche il morto perché come in ogni giallo che si rispetti? Ebbè è chiaro che ogni giallo deve avere una sua diciamo così trama intrigante che porti il lettore a rimanere attaccato alle pagine nel tentativo di scoprire qualche cosa, i gialli poi sono un genere estremamente fortunato perché io credo alla fine ci sia da parte di tutti di chi legge la voglia di avere una rivincita cioè attraverso il commissario di turno che è quello che un po' capisce tutto. Con un nome particolare anche la ricerca del nome. Sì la ricerca del nome è importante nei miei libri perché metto sempre nomi molto particolari, un po' così ho una piccola presunzione di costruire dei personaggi unici e quindi devono essere unici anche nel nome.